Il governo Amato nel 1992 assunse dei provvedimenti anche molto più duri, in una condizione drammatica, e lo fece assieme alle organizzazioni sindacali e degli imprenditori, che si assunsero la responsabilità e fecero delle scelte drammatiche anche in termini di pensione, di abolizione della scala mobile e di quant'altro. La cosiddetta riforma delle pensioni della professoressa Fornero è stata fatta senza sentire nessuno. Ha sentito, professoressa, cosa diceva Pirale? Sì, in effetti è vero che abbiamo avuto un incontro con il sindacato e con le imprese sostanzialmente un paio di giorni prima di licenziare il provvedimento, ma ripeto, ci si dimentica ora della situazione di crisi vera nella quale ci si trovava, quindi io non credo che sarebbe stato, vorrei anche dire senza polemiche, che invocare il gradualismo in un paese che di gradualismo stava morendo, perché la gradualità esasperante, e questo era un termine che il mio maestro onorato Castellino usava sempre, esasperante lentezza delle riforme pensionistiche. Allora è relativamente facile l'impegno di una riforma pensionistica, era stato preso dal governo precedente, non era così come di quella del lavoro, erano impegni che bisognava assolvere in una situazione, ripeto, di crisi finanziarie, e lì il messaggio doveva essere forte, perché un messaggio di gradualità non avrebbe, certo, il messaggio è stato recepito e devo dire che ancora in questi giorni, poi non lo devo dire io, ma insomma quando si dice la riforma veramente strutturale che è stata fatta in Europa, in Italia dal governo tecnico è quella sulla previdenza.